Jasmine been preparing the song of Shakira, di Vida Gamesa. Jasmine ha preparato la canzone di Shakira, di Vida Gamesa. Un applauso a Jasmine. Un applauso, un grande applauso a Miss Simona. Simona, e adesso è parte. La prima iniziale sarà Jasmine. Iniziamo con la prima iniziale. Iniziamo con la prima iniziale. Iniziamo con la prima iniziale, perché ora... Ops! Scusate. Non sono abituata. Grazie a tutti. Jasmine, preparando la canzone di Shakira, di Vida Gamesa. Un applauso a Jasmine. Aspetta un secondo. Aspetta. Simona fuori. Ok, Jasmine. Abbiamo un R.V.M. Un applauso a Jasmine. Un applauso a Jasmine. Un applauso a Jasmine. Sì 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 Sì